Quarto appuntamento sul territorio delle riunioni della prima commissione dell'Assemblea Legislativa. Dopo il comprensorio del Lago Trasimeno, Lorvietano e Leo Gubino, l'organo presieduto dal consigliere regionale Andrea Smacchi ha incontrato i sindaci dell'Alta Umbria con una riunione a San Giustino. Un territorio di cerniera, ha detto il consigliere regionale Smacchi in apertura, fondamentale anche per le prossime sfide legate alle macro-regioni. I sindaci hanno sottolineato le loro priorità, tutte legate alle infrastrutture, E45 ed E78, senza dimenticare l'FCU. Negli interventi è emersa anche la necessità di un maggiore coordinamento legato alle politiche di promozione turistica. Dall'assessore Cecchini sottolineate le soluzioni con la programmazione europea per sostenere l'economia e l'agricoltura e la richiesta di un riconoscimento di area di crisi non complessa. Grazie a tutti!